Il problema dei cattivi odori che insistono in alcune aree limitrofe alla città è sotto la tensione costante dell'amministrazione. Per capire le cause di un fenomeno comunque molto complesso verrà affidata ad uno studio specializzato l'indagine per l'individuazione delle cause certe delle manifestazioni odorigine, per poterne poi trovare la migliore soluzione al fine di ridurre al minimo il disagio dei cittadini. Così l'assessore Marco Sacchetti annuncia la decisione presa dalla Giunta di procedere con l'incarico di uno studio olfattometrico del tipo Odorfeld Inspection finalizzato all'individuazione di tutte le possibili fonti di emissione di cattivi odori che insistono nelle aree di Sanzeno, Lepogiola, Ponte Chiani, Ruscello, Battifolle e Olmo e della loro dinamica di diffusione e l'analisi dei diversi fattori scatenanti. Si tratta di un sistema complesso di indagine che prevede rilievi diversi e frequenti, analisi di elaborazione dei dati dell'aria e dei dati meteorologici, misurazione dell'esposizione olfattiva sia per intensità che per persistenza, il tutto per una durata sufficientemente lunga affinché l'indagine sia rappresentativa delle condizioni complessive del sito in esame. Riteniamo lo studio uno strumento utile per fornire un riscontro ed una misurazione quanto più oggettiva possibile degli odori e per consentire di individuare con maggior sicurezza tutte le sorgenti emissive. Anche a seguito conclude Sacchetti delle indagini fino ad oggi svolte dalle quali non sono emerse chiare evidenze sulle cause delle problematiche segnalate.